Dopo il caracciolo di Agnone anche il Santimoteo di Termoli è senza bar e senza distributori automatici di bevande e snack. Può sembrare una sciocchezza ma invece rende l'idea di quale sia la reale situazione della sanità molisana che secondo il portavoce del Movimento 5 Stelle Andrea Greco non riesce a garantire un servizio così semplice da offrire. Figuriamoci se possono assicurare ILEA quello di Greco è un attacco frontale al direttore generale dell'Asere Moreste Florenzano che secondo il consigliere regionale ha fallito tutti gli obiettivi ILEA in zona rossa dal 2019, il personale non reclutato e non formato, l'assenza di investimenti in tecnologia, la gestione della pandemia e della campagna vaccinale con il Molise che doveva essere la prima regione a raggiungere l'immunità di Grege fino alla precarietà di molti reparti che rischiano la chiusura per consunzione. Basso e Alto Molise accomunati dallo stesso triste destino. Dopo la chiusura dei bar, dei punti ristoro negli ospedali di Termoli e di Agnone addirittura vengono rimosse al Santimoteo i distributori di bevande. Allora mi viene spontanea una domanda al direttore generale Oreste Florenzano. Se non si riesce a garantire la sopravvivenza di un servizio minimo come può essere un bar, un punto ristoro in un ospedale, figuriamoci se riuscite a garantire i livelli essenziali di assistenza. Il Molise è tornato tristemente dal 2019 in zona rossa per quanto riguarda ILEA e se contiamo il mancato raggiungimento di tutti gli obiettivi che si erano prefissati per Oreste Florenzano dal reclutamento del personale, alla capacità di engagement dell'azienda sanitaria, alla possibilità di aggiornare i dipendenti mediante i corsi di formazione che non vengono svolti, la possibilità di ampliare l'offerta sanitaria all'interno dei nosocomi con una dotazione tecnologica e di personale adeguata che sia competitiva, io mi chiedo cosa aspetta, alla luce di tutto questo, il direttore generale Florenzano prima di rassegnare le sue dimissioni. Il Molise è stanco dei suoi mancati obiettivi.